Musica Prosegue il nostro tour dell'Italia di Artù e questa sera ci troviamo a Porto Cervo per un ristorante veramente doc, i Frati Rossi e anche qui accettano i nostri amici a quattro zanni. Musica Caro Gabriele, questi Fraticelli mi dicono qualcosa, che amiamo gli amici a quattro zampe. Certamente, certamente. Questa è una tradizione di famiglia proprio. Me l'hanno detto, me l'hanno detto andiamo là perché sono anni, chiamano gli amici a quattro zampe, ho visto che ce ne sono due, un femmine maschio, piccolini. Le mascotte sono del locale ormai. Ma voi accettate qualsiasi tipo di animale, tipo di cane, taglia piccola, taglia mediale, taglia grande? Sì, anche grandi, magari gli organizziamo una zona un po' più separata perché c'è sempre il problema che magari qualche commensale non... Ma è giusto, alcuni li amano, altri... Magari li mettiamo un po' di fianco, no? Un bel alano, un bel alano alto, quasi un metro. Un telefonato per un alano, no? Ma noi ci abbiamo il posto adeguato, di fianco, tranquilli, senza... Perché i tre frati? I tre frati perché praticamente era un po' il sogno che dovevamo realizzare di fare questo ristorante e al momento di farlo non sapevamo come chiamarlo. Poi, un vecchio sogno dell'infanzia, dei frati rossi... Rosso, vi si addice, anche io ho il logo di Cani e Gatti TV Channel che è rosso ed è veramente lo stesso... Non so se è lo stesso pantone ma siamo di vicini, quindi porta fortuna. Porta fortuna, senz'altro. La vostra specialità? La nostra specialità, diciamo, maggior parte pesce, un po' di crudo, qualche primo strepitoso perché di quelli giusti e poi la materia prima, tutta roba di pesca locale, scampi, gamberoni, insomma tutto quello che viene un po' dal mercato. Sito internet e cosa devono fare le persone per venire qui a mangiare da voi? www.fratirossi.it Oppure chiamano, un numero di telefono? 0789 94 395 Ah, te lo ricordi bene, eh? Boh, quasi quasi, cosa dici? Sono trent'anni, se non te lo ricordi tu, insomma. Sì, sono trent'anni, sì, trent'anni no, ma insomma. Quanti anni è che avete? È dal 94. Non è che ho sbagliato poi di così tanto, eh? Ma viene, stiamo invecchiando. Anche io, che devo fare? Ragazzi, abbiamo trovato nell'Italia di Artù un altro ristorante che accetta gli amici a quattro zampe. Mi raccomando perché le strutture incominciano ad essere abbastanza. Dall'anno scorso a quest'anno le cose sono cambiate e continueranno a cambiare. Vi aspettiamo sempre qua su Canegate TV Channel. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.